1.500 tre cilindri turbo e un motore elettrico che erogano una potenza complessiva di 420 cavalli. La Taraschi Berardo Supercar, che fa rivivere lo storico marchio automobilistico del mitico pilota Terramano e la sua antica JAUR 750 Sport, è stata svelata. La Coupé 2 più 2 ibrida plug-in, realizzata dall'azienda modenese One-Off e dal figlio del fondatore Tazio, sulla base della BMW i8, di cui eredita la monoscocca in carbonio e il powertrain rivisto nello scarico e nella gestione elettronica, fa già parlare di sé. Dalla monoposto Ferrari degli anni tra il 40 e il 60, a questa moderna e tecnologica supercar, entrambe hanno linee sinuose, arrotondate, prive di vistosi appendici aerodinamiche e che mettono in risalto le forme del passaruota, ma soprattutto la derivazione dalla tedesca BMW, oggi la i8, ieri il motore motociclistico Boxer R75. La Taraschi Berardo ha un'originale carrozzeria realizzata in alluminio battuto a mano, un metodo costruttivo che collega idealmente la nuova vettura agli anni 50 e che viene realizzato da Quality Cars, una carrozzeria specializzata nel restauro delle auto d'epoca. Anche all'interno della Taraschi Berardo ogni superficie dell'abitacolo è stato rivisto, qui la parentela con la BMW i8 è più evidente, ma il cliente potrà richiedere una completa revisione del design della plancia per rendere ancora più unica la vettura. Ogni pannello è rivestito in pelle e mentre le plastiche e gli inserti in metallo hanno lasciato il posto al legno di Mogano, un altro rimando alle auto di un tempo. La Taraschi Berardo sarà costruita in serie limitata su ordinazione a un prezzo di partenza di 800.000 euro. È stata presentata l'altro ieri al Museo di Torino, una macchina, io ho partecipato molto poco alla costruzione di quella macchina, c'è un gruppo di persone che mi ha chiesto di poter utilizzare il nome Berardo e il nome Taraschi e io gliel'ho dato volentierissimo, è venuta fuori una, credetemi, una gran macchina. Io che sono fuori allenamento, che sono fuori tutto, abbiamo girato dentro Magione per fare il collauda senza poterla sbattere perché stava arrivando un gruppo di indiani e il giorno dopo sarebbe arrivato un gruppo da Doha, Emirati Arabi, Arabia Saudita, ho girato in 1,26 e sono completamente fuori allenamento. Guardi che per girare 1,26 dentro Magione ci vogliono le automobili vere.